Credo che ne penserebbero molto male, però è difficile parlare a nome loro. Certo che se, come ho detto poco fa in aula, se confrontiamo il livello di quei padri costituenti con quelli di oggi, i risultati temo che siano proporzionali alla statura morale, culturale e politica che c'è fra quelli di allora e quelli di oggi.